Bentornati a Patchwork, ciao da Valentina ed oggi proveremo a costruire un portapiante da interni. Abbiamo bisogno di una striscia di cartone come questa, delle mollette di legno per il bucato e della colla a caldo. Cominciamo. Creiamo un cerchio con la nostra striscia di cartone ed incolliamo lungo tutta la circonferenza le nostre mollette. Questo è il nostro portapiante finito. Provateci anche voi, vi aspetto alla prossima puntata di Patchwork, ciao!